mi donna la porta mio marito mio marito nasconditi nell'armadio fai presto corri tesoro ma tu che fai qua perché sei tornato? ho dimenticato la chiave dalla macchina e sono tornato indietro fai presto va 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 fatica va e ma tu che fai qua non dovevi stare in ufficio io io sto qua perché ho fatto colazione quando te ne sei andata e mi sono sporcata con il caffè allora mi devo cambiare e mo me ne vado hai capito? aspe mi è venuta un'idea facciamo una cosa mettiti quel vestito rosso e ci siamo a fare una bella camera tutti e due a lavorare non ci andiamo e gammalo tu non mettere cosa mia io devo andare a lavorare e poi io il vestito rosso non so neanche dove sta e l'ho visti stamattina te lo vado a prendere e chi siete voi? chi siete? voi chi siete? io chi sono? eh si chi sono dunque ah si io sono il tecnico dell'asla e allora sono venuto perché sono venuto? eh non lo sace ma la ti dicevo voi eh appunto io sono qui per la disinfestazione delle tarme eh beh e beh e poi sta da nulla sta senza vestito oh eire eitar-me e che dia fa ma che te ne ne sai no manhã tu dove si dar a gola oh eire eitar-me e poi no